Bella a tutti ragazzi, ho inserito qualche mod in Hogwarts Legacy Aspetto di Lord Voldemort, la skill Avada Cadavra e la voce di Voldemort Quindi è veramente uno spettacolo, fatemi sapere se vi piacciono questo tipo di contenuti E se vorrete porterò tante altre mod divertenti di Hogwarts Legacy Aspetto di Lord Voldemort